caro bologna cari bolognesi cuvella quante ricorrenze in questi giorni vedete vedete le mie spalle così c'è il portico dei seri perché perché a Irlaterdwang è stata la festa di Santa Lucia Santa Lucia protettrice della vista ma vabbè su questo argomento avremo occasione di intrattenerci nel corso di questa trasmissione Santa Lucia Santa Lucia appunto sotto al port di Seruf ha anche questa bellissima tradizione bolognese della fiera delle figurine del presepio dei giochini per l'albero di Natale e mi è grato in questa occasione leggervi una poesia di Gaetano Marchetti quello che ha per pseudonimo l'umareg dal paver dedicata appunto alla fiera e Santa Lucia. Piren le totincu calfad lagnola calvol quel gbajucat prender sta sira dal port di Seruf dove è la fiera Santa Lucia perché gli han detta scuola che un presepi agli voli in totielca in qualche l'aveva fin dall'an passè al disc serato un angelo che le caschè con al durmian al sumarin e al basso depiolo al vola la bandera al rà e il piguer col pastore al brec l'hafcena aiandarai se nà con sta fibrina senza stersi curd non avrai più pesenca quanti è che l'uso e quanti è che banchetti per i figurini e quanti è che i giugliani che fanno sgranare anche a Stefan Zane quanti è che dolce crocante a quadrarletta che fanno un odore che ha la parpenna incisa. Santa Lucia fa bene che Stefan Zane sempre aveva la salute di Subiu Zane e del cos brotti in invadere brisa.